bene oggi andiamo ad affrontare un problema che era rimasto in sospeso vi ricordate quando cercavamo per esempio il dominio di una funzione per esempio facciamo un esempio una funzione semplice uno fratto x meno due facciamo una cosa quasi banale in questo caso il dominio della funzione è citata una funzione analitica algebrica razionale fratta qui questa funzione calcolabile per qualunque valore di x tranne che in due perché perché 2 a nulla il denominatore quindi tutti i numeri reali ma non il 2 oppure se preferite tutto area cui tolgo il numero 2 ok perché perché in due il denominatore si annulla quindi la funzione non è calcolabile in due cioè f di x f di x che è espresso come 1 fratto x meno 2 non è calcolabile per x uguale a 2 d'accordo allora uno può chiedersi cosa succede o meglio come si comporta la funzione se x è anzi fatemelo scrivere meglio se x è vicino a 2 ok 2 non va bene non è calcolabile ma cosa succede nei pressi di 2 ecco questa espressione x è vicino a 2 va quantificata cioè come riusciamo a esprimere il fatto che un una variabile x approssima o è vicino a un certo valore per far questo abbiamo bisogno di un concetto molto molto importante in matematica che quello di intervallo meglio ancora di intorno ok e per arrivarci dobbiamo percorrere una certa strada qui la risposta è insieme sotto insieme di numeri reali e per questo il titolo della lezione di oggi è i sotto insieme di r immaginiamo ad esempio un insieme fatto in questo modo supponete che prendiamo a formato dai numeri reali reali chiamiamoli sempre x che siano esprimibili facciamo una roba semplice come tutte le frazioni unitarie il numeratore è 1 il denominatore è n più 1 con n appartenente ai numeri naturali quindi in sostanza se facciamo una tabella e mettiamo a sinistra la n e a destra il corrispondente x se n è 0 x vale 1 perché è 1 diviso 0 più 1 che è 1 se n è 2 x è un mezzo se n è 2 x è un terzo se n è 3 x è un quarto e così via quindi in a ci sono tutte le frazioni si dicono unitarie cioè tutte le frazioni che hanno come numeratore 1 ora questo possiamo anche rappresentarlo sull'asse reale immaginiamo una retta orizzontale dove ci sono le nostre x qui mettiamo il valore di 0 qui mettiamo il valore di 1 allora se indico con il rosso i punti dove si trovano dove sono gli elementi del nostro insieme avremo l'uno poi ci sarà un mezzo un terzo un quarto e così via quindi sono sempre più densi in questo modo allora è evidente che ok per esempio 1 anzi facciamo così 2 è un numero che è maggiore di tutte le x appartenenti ad A cioè se prendo il numero 2 che sta qui 2 è superiore a tutti gli elementi che appartengono a questo nostro insieme A sta qua dentro 2 è più grande di tutti gli elementi di A perché sta a destra di tutti quando questo accade se trovo un numero come il 2 che è più grande di tutti gli elementi dell'insieme dico che 2 è un maggiorante dell'insieme A attenzione al concetto di maggiorante in generale dico che B è maggiorante maggiorante di A dell'insieme A se succede la seguente cosa B è maggiore o uguale a x qualunque sia l'x appartenente ad A allora dico che B è maggiorante perché c'è l'uguale perché in realtà anche 1 è maggiorante 1 è maggiore o uguale il maggiorante potrebbe anche essere parte dell'insieme invece un mezzo non lo è più un mezzo non è più maggiorante perché non è vero che è più grande di tutti gli elementi di A perché c'è un altro elemento di A che è 1 che è più grande di un mezzo ok attenzione a quest'altro concetto importante se A l'insieme A sotto insieme di numeri reali a un maggiorante allora a infiniti maggioranti questo è abbastanza ovvio torniamo all'esempio di prima torniamo all'esempio di prima se 2 è maggiorante del nostro insieme quindi 2 è un numero più grande di tutti gli elementi di A tutti i numeri più grandi di 2 lo sono a loro volta ok se 2 è più grande di A lo è anche 3, 4, 5 e via dicendo ok questo è un teorema inoltre definizione questo è un teorema se l'insieme A sotto insieme di R ha un maggiorante allora abbiamo detto che ne ha infiniti allora si dice che A è superiormente limitato questa è una definizione quando posso dire che un insieme è superiormente limitato un insieme di numeri reali è superiormente limitato se ha un maggiorante o si può dire anche se ha almeno un maggiorante perché in realtà se ne ha uno ne ha infiniti ok la cosa di tutto analogo si può fare dalla parte opposta quindi se torniamo all'esempio di prima fatemi ricopiare il disegno senza che lo rifaccia un'altra volta eccolo prendiamo per esempio il numero qui c'è meno uno meno uno è più piccolo di qualunque x appartenga ad A perché? perché tutti i numeri di A sono positivi quindi qualunque il numero negativo è minore degli elementi di A quando questo succede si dice che questo numero è un minorante definizione dico che A è minorante dell'insieme A sotto insieme di R se A è minore uguale di x qualunque sia x appartenente ad A allora è minorante ok ok qui attenzione per esempio un milionesimo ok non è minorante di A perché? perché se qui metto dove era la tabella di prima eccola qua metto n uguale a un milione io avrò 1 fratto un milione più 1 e quindi un milionesimo ok non è il numero più piccolo di tutti gli elementi di A perché basta che aumento un poco n e ho numeri più piccoli mentre per esempio lo è lo 0 lo 0 è minorante di A perché essendo A tutti i numeri positivi 0 è più piccolo e inferiore a tutti gli elementi di A ok vale sempre un teorema analogo al precedente se A insieme A sotto insieme di R ha un minorante allora ne ha infiniti qui nel nostro caso per esempio meno 1 ok è minorante di A tutti i numeri inferiori a meno 1 sono a loro volta minoranti quindi quindi definizione se l'insieme A sotto insieme di R ha un minorante allora si dice che è inferiormente limitato definizione definizione nel nostro caso l'insieme di prima l'insieme di esempio che abbiamo usato questo qui quello delle frazioni unitarie è un insieme inferiormente limitato perché ha un minorante per esempio 0 è minorante tutti i numeri negativi sono minoranti altra definizione più in generale in generale se insieme A ha un minorante e un maggiorante allora si dice che A è limitato quindi quando è che un insieme è limitato un insieme è limitato se possiede almeno un maggiorante e almeno un minorante oppure si può dire anche che A è limitato sia superiormente che inferiormente ok si è breve dicendo A è limitato e basta quando dico limitato si intendo sia superiormente che inferiormente attenzione a concetti che possono essere confusi ma non nel caso che vengano confusi torniamo all'esempio di partenza nota bene il nostro A è fatto in questo modo è fatto dai numeri X esprimibili come le frazioni unitarie tutti i numeri del tipo 1 fratto n più 1 con n naturale quindi 0 1 2 eccetera quindi X 1 un mezzo un terzo e via dicendo x 1 un mezzo un terzo e così via questo insieme è limitato ed è infinito perché contiene infiniti termini tanti termini quanti sono i numeri naturali attenzione a non confondere il concetto di limitato con il concetto di finito questo insieme, ripeto, è un insieme infinito, ma è limitato d'accordo? allora, altro concetto importante torniamo all'esempio di prima, quindi prendiamo il nostro disegno vediamo se riesco a ribeccarlo, eccolo qui concentriamoci stavolta a sinistra, di tutti i minoranti qui abbiamo, qui a sinistra ci sono i minoranti qual è il più grande? qual è il più grande numero che sia più piccolo di tutti gli elementi di A? qualcuno ha un'idea? è scritto sulla lavagna è lo 0 perché, attenzione, i numeri non sono quelli naturali e basta meno 1 è minorante, d'accordo? ma lo è anche meno un mezzo lo è anche meno un quarto lo è anche meno un milionesimo lo è anche lo 0 lo 0, in questo caso è lo 0 è il più grande dei minoranti questo significa che qualunque numero più grande di 0 non è più minorante questo numero, il più grande di tutti i maggioranti prende il nome di estremo inferiore e lo si indica con inf a per estremo inferiore si intende il più grande dei minoranti per estremo inferiore si intende il più grande dei minoranti nel caso nostro l'estremo inferiore è il numero A ok? mentre, analogamente definisco come estremo superiore di A il più piccolo dei maggioranti che nel caso del nostro insieme era 1 che nel caso del nostro insieme era 1 nel caso dell'esempio di prima è 1 perché 1 è maggiorante perché è maggiore o uguale a tutti gli elementi di A ma è il più piccolo non ci sono numeri più piccoli di 1 che siano maggioranti perché anche se prendo per esempio che ne so 0,99 che è qui d'accordo questo numero non è più piccolo di tutti gli elementi di A perché a destra di lui c'è l'1 quindi 0,99 non è più maggiorante il più piccolo dei maggioranti è 1 inoltre, attenzione se, come in questo caso l'estremo superiore, ripeto del nostro elemento A vale 1 che appartiene ad A in questo caso se l'estremo superiore del nostro insieme è membro e elemento di A allora l'estremo superiore prende il nome di massimo che cos'è il massimo di un insieme? il massimo di un insieme è l'estremo superiore nel caso in cui questo appartenga ad A analogamente se l'estremo inferiore di A appartiene ad A allora l'estremo inferiore prende il nome di minimo di A quindi che cos'è il minimo di un insieme? il minimo di un insieme è l'estremo inferiore nel caso in cui questo appartenga all'insieme nel caso specifico di prima delle frazioni unitarie 0 è l'estremo inferiore ma non è minimo lo 0 non appartiene ad A perché non c'è nessun numero naturale tale che 1 su N più 1 sia uguale a 0 quindi lo 0 non fa parte di A è minorante è il più grande dei minoranti quindi è l'estremo inferiore ma non è il minimo ok è tutto chiaro? molto bene proviamo per esempio quest'altro insieme facciamo un altro esempio chiamiamolo B per non confondereci troppo supponiamo di avere B formato dai numeri reali esprimibili in questo modo invece N fratto N più 1 con N naturale anche queste sono frazioni facciamo anche qui la tabella come prima così ci capiamo meglio qui abbiamo N qui abbiamo X se N è 0 X è 0 e 0 fratto 1 fa 0 se N è 1 questo è un mezzo se N è 2 questo è 2 terzi se N è 3 questo è 3 quarti e così via come è fatto questo insieme? andiamo a dare un'occhiata da vicino qui abbiamo la nostra X qui c'è lo 0 qui c'è l'1 qui c'è il 2 qua ci caderebbe meno 1 andiamo a indicarlo con sempre il rosso che abbiamo lo 0 poi un mezzo poi 3 quarti poi 4 quinti poi 5 sesti e così via ok? anche qui è evidente che qualunque sia X appartenente a B i numeri sono compresi tra 0 e 1 qui per come sono espressi in questa frazione il denominatore è sempre più grande del numeratore quindi questo numero è sempre più piccolo di 1 e non sarà mai uguale a 1 perché non c'è nessun N tale che N è uguale a N più 1 invece 0 appartiene all'insieme quindi diciamo che in questo caso l'estremo inferiore di B cioè il più grande dei minoranti è 0 che è anche minimo perché 0 appartiene a B mentre l'estremo superiore di B è 1 che non appartiene ad A cioè che non è massimo il massimo di B non esiste esiste l'estremo superiore che è 1 ok è tutto chiaro però potrebbe rispiegare l'ultimo passaggio certo allora qui abbiamo diversamente da prima una frazione che non è unitaria cioè il numeratore cambia quindi tutti i nostri X sono numeri naturali diviso il loro successivo quindi se N vale 0 è 0 perché 0 diviso 1 fa 0 poi ho 2 diviso 3 3 diviso 4 4 diviso 5 eccetera quindi qui in questa frazione il denominatore che è N più 1 è sempre più piccolo del numeratore che è N quindi la loro frazione se divido N diviso N più 1 ottengo sempre qualcosa di minore di 1 infatti se osservate queste frazioni sono tutte frazioni più piccole di 1 tuttavia sono tutti numeri positivi quindi qui ho maggiore di 0 uguale a 0 solo nel primo caso ok quindi tutti i miei punti si distribuiscono dentro questo questa regione tra 0 e 1 per cui tutti i numeri negativi 0 incluso sono minoranti tutti i numeri da 1 in su sono maggioranti 1 è il più piccolo di tutti i maggioranti che però non appartiene all'insieme perché se appartenesse all'insieme vorrebbe dire che trovo un numero naturale tale che N è uguale N più 1 ma questo non è possibile N più 1 è più grande di N qualunque numero io prenda quindi 1 non fa parte dell'insieme mentre 0 sì se N vale 0 0 diviso 1 fa 0 quindi 0 che è l'estremo inferiore è anche minimo perché appartiene a B facciamo scriverlo qua 0 appartiene a B quindi è minimo ma 1 non appartiene a B quindi non è massimo è solo l'estremo inferiore ok ci siamo? ci sono domande? no no tutto posso perfetto allora attenzione supponiamo di avere di fare un grafico prendiamo per esempio mettiamo sull'asse delle Y i nostri numeri X con N e qui mettiamo N quindi qui abbiamo lo 0 l'1 il 2 il 3 il 4 il 5 e via dicendo qui abbiamo lo 0 qui e qui c'è l'1 quindi se N e prendiamo quelli di B qui c'è lo 0 per 1 ho un mezzo quando ho 2 ho due terzi in 3 ho tre quarti e così via se qui prendiamo la retta orizzontale prendiamola in blu ecco man mano che N cresce i numeri corrispondenti sono via via più vicini a 1 ma sempre più piccolo di 1 ok se li proiettiamo sulla orizzontale sull'asse verticale abbiamo una distribuzione di questo tipo ok allora possiamo dire che man mano che N cresce N cresce cioè diventa via via più grande il valore di X N che è N fratto N più 1 si avvicina a 1 perché ho una frazione dove il numeratore è sempre più vicino al denominatore ok quindi la distanza tra questo puntolino rosso e la retta azzurra è via via più piccola man mano che N diventa più grande pur rimanendo sempre sotto ok e c'è un unico numero che ha questa proprietà cioè man mano che N diventa sempre più grande questa grandezza approssima sempre meglio un unico valore che è 1 non so se riuscite a vederlo man mano che N sale questa funzione ha un andamento di questo tipo questo tipo di espressioni prende il nome di successione successione è una specie di funzione dove la variabile indipendente al posto di avere la X ha i numeri naturali e il risultato l'immagine è un numero reale in generale ok d'accordo come faccio ad esprimere formalmente questo beh qui intuitivamente vediamo che al crescere di N lo ripeterò mille volte N diventa via via più vicino a 1 man mano che N cresce però sempre da sotto per valori in difetto d'accordo invece se avessimo l'insieme A ricordate quello di prima nel caso di A che era fatto dai numeri reali con X che vale 1 su N più 1 N appartenente ai numeri naturali allora l'A avremmo avuto chiamiamo questo A piccolo va bene quindi qui abbiamo lo 0 1 2 3 4 eccetera eccetera qui abbiamo gli insieme A qui abbiamo l'1 indichiamo in blu stavolta dai i valori che abbiamo in 0 c'è 1 in 1 c'è un mezzo in 2 un terzo in 3 un quarto in 5 un quinto e così via anche in questo caso man mano che N cresce questa grandezza approssima questo valore approssima allo 0 stavolta perché la frazione diventa via via sempre più piccola ok e c'è un unico numero che ha questa proprietà qui in questo caso se N cresce diventa via via più grande allora x con N approssima lo 0 ok come faccio a dire a quantificare questa espressione x approssima un certo valore oppure oppure come in questo caso x si avvicina a 1 beh potremmo dire così dico che un numero x con N si avvicina a un valore 1 se la sua differenza rispetto a 1 diventa piccola è ragionevole no? dico che questo numero al crescere di N si avvicina a 1 se la differenza rispetto a 1 è piccola quanto piccola? beh ripeto supponiamo che dico che x con N si avvicina a diciamo 1 nel caso di prima dove questo era N fratto N più 1 se questo lo formalizziamo dicendo che la differenza rispetto a 1 è piccola ma che significa piccola? quanto piccola?